1-1 tra Cesena e Cagliari, al 21esimo Uribe porta in vantaggio la squadra ospite. Nel secondo tempo Russo si fa parare un calcio di rigore dal bravo Sorrentino, vediamo l'azione fallosa dei difensori cagliaritani, e il calcio di rigore di Russo parato molto bene da Sorrentino, ma al novantesimo il Cesena pareggia ugualmente con Cozzella.